amici amici della palamano bentornati in diretta dalla palatacca di cassano magnago ventiseiesima giornata ovvero undicesima di ritorno della serie a beretta femminile e sì ciao scusate maschile ormai la maschile non giocava da un po e quindi l'abitudine era quella dicevamo sera beretta maschile si affrontano questa sera il cassano magnago e ospiti graditi ospiti la palamano per sano entrambe le squadre sono attualmente a metà classifica non hanno più nulla da chiedere praticamente al campionato perché la salvezza diciamo è tranquilla i piani alti della classifica sono lontani quindi giocano possono giocare a cuor leggero e semplicemente divertirsi e faccio vedere una bella palamano questo è l'augurio di tutti iniziamo con ringraziare la la crew che vede quest'oggi alla telecamera davide cenci qua al fianco a me in in commento avete già sentito prima c'è il grandissimo davide bianchi buonasera buonasera a tutti farà anche lo spippolamento sui tastini e chi vi parla è sempre luca basile mi piace questa cosa te l'ho già detto che mi piace questa cosa quando ti presenti e saluti da solo questa cosa mi piace molto aspettavo che tu mi presentassi dopo tre secondi che tu fai del gran silenzio mi presento da solo assolutamente sì dicevamo undicesima giornata di ritorno andiamo a vedere qual è il programma di questa undicesima giornata di ritorno poi andremo a leggervi anche risultati perché la nostra è l'ultima partita in calendario come orario quindi alcune partite sono già terminate anzi quasi tutte credo sì abbiamo albatro bozen 31 34 junio fasano bixen 25 24 importante vittoria del fasano raymond sassari epan 33 30 poi vi daremo risultati in seguito si sono giocate anche siena cingoli conversano molteno trieste merano e per concludere cassano maniago pressano per una classifica che attualmente vede il conversano con 37 punti sassari 34 bolzano 30 fasano 28 siena 27 merano e cassano e pressano 24 bixen 22 e panne albatro 19 trieste 18 cingoli 15 fondi 14 e molteno 11 poi agli ordini della coppia arbitrale stefano riello e niccolo panetta stanno per cominciare le ostilità vediamo le squadre a centrocampo c'è uno strano conciliabolo non ho capito cosa stanno facendo all'arbitro sta spiegando come posizionarsi esattamente per quanto riguarda le rimesse dal centro quindi cosa molto bella non questo per farci capire che non intendono essere molto laschi sulla precisione della rimessa dal centro quanti probabilmente ha già intuito che le due squadre optano per le rimesse veloci quindi chiede di essere categorici mettete il piede finché non c'è il piede io non fisco se lo staccate a meno del fisco vi faccio tornare indietro questo ci ha sembrato di capire l'arbitro con i capitani anche altri giocatori quindi ci ha tenuto a ricordare com'è la regola esatta per la rimessa dal centro va bene intanto è iniziato il match primo possesso per pressano che comincia con il giropalla pressano si schiera con il numero 15 nella posizione di centrale vale a dire nicola fadanelli poi a sinistra andrea argentina a destra dal lago sulle ali andiamo a identificare i giocatori col numero 97 l'ala sinistra nicola moser e all'ala destra è ovviamente adriano di maggio in porta credo sia il greco nicolaus loizos questo il lo starting seven per quanto riguarda alessandro fusina primo attacco non dato buon punto adesso vediamo primo attacco per il cassano con saitta che supera loizos ma la palla si stampa sul palo nulla di fatto per il cassano pressano subito dall'altra parte una palla che si perde in fallo laterale cassano che dicevamo risponde con moretti mazza e fantinato terzini saitta all'ala destra e branca all'ala sinistra pivot per ora in questa prima fase diamo i vascisci poi vedremo se sarà lui effettuare cambio attacco difesa oppure rimarrà confermato anche per la posizione offensiva in porta per ora luca monciardini tacca cassano fantinato mazza moretti mazza doppio pivot moretti fantinato finta scarica saitta non c'è spazio deve risalire si torna da moretti da fuori e palla nei sette metri nei nove metri 1 a 0 cassano prima rete del match con alessio moretti e però risponde prontamente pressano col numero 15 nicola fadanelli 1 a 1 due minuti passati palla in mano cassano moretti mazza intanto che chiama lo schema e posiziona scici comincia giro di palla moretti mazza stesso schema di prima moretti finta di tiro poi scarica per fantinato scavalcamento tra primo e secondo palla che si schianta sulla traversa e rimessa da a fondo per la squadra in maglia gialla fadanelli argentin fadanelli si riparte con pressano con un attacco lento e organizzato dal lago fadanelli argentin risale moser fadanelli a cercare un bacco una difesa maranto non ce n'è deve ripartire prova lo scarico per gabrile sontacchi che insacca e ammunizione per i mancici 2 1 punteggio per pressano adesso cassano in attacco ad alta voce alessandro fusina sulla banchina del pressano a dare indicazione ai suoi giocatori in difesa parte l'attacco fantinato si sposta a doppio pivot moretti mazza palla di ritorno per moretti che scarica per mazza poi cercato scissi nulla di fatto però cartellino giallo per cassano scissi mazza moretti finta di passaggio all'ala poi torna da mazza scavalcamento verso sinistra ma non c'è spazio nelle maglie giallonere del pressano 9 metri a tutti da mazza adesso moretti 1 contro 1 con argentin scarica su mazza prova da fuori però palla che vola sopra la traversa e ancora che torna nelle mani del pressano che non spinge a seconda fase quindi fadanelli andrà a organizzare ancora una volta la squadra sontacchi si sposta tra primo e secondo difensore a sinistra ora dal lago fadanelli argentin fadanelli si torna da dal lago 1 contro 1 su mazza prova una veronica ma 9 metri nulla di fatto per il numero 2 giallonero riprendere attacco di pressano fadanelli dal lago argentin taglio di moser poi bravo saita a leggere la situazione però non aggancia il pallone e palla che rimane nelle mani del pressano sempre doppio pivot fadanelli qualche difficoltà nel palleggio ma mantiene la palla che arriva dal lago finta di tiro poi mazza ancora ferma ferma il numero 2 giallonero 9 metri lungo questo attacco di pressano dal lago volo per dimaggio che però stacca con un piede dentro l'aria quindi può ripartire cassano in seconda fase moretti mazza uno contro uno scarica diretto per fantinato che si gioca anche lui in uno contro uno con moser ci sarà un cartellino giallo sicuramente vediamo no redarguito solo verbalmente difensore del pressano 9 metri per cassano 6 minuti passati cambio di posto tra saitta e fantinato continua giro di palla risale fantinato che incrocia con mazza doppio pivot per il cassano moretti scarica ancora per mazza uno contro uno risale saitta c'è un varco serve scici non agguanta il pallone poi però l'arbitro ravvisa un fallo quindi palla che rimane a cassano ancora moretti scarica per mazza passaggio troppo indietro non agguanta il numero 85 pressano che riparte con un contropiede ma fantinato bravissimo si mette la mano la manona fantinato riesce a ricordare questo pallone fasi confusse cassano non trova fluidità buon per lui che fantinato ha ricordato questo pallone importante ma ancora un altro attacco senza molta lucidità però c'è stato anche un fallo ritenuto grave dalla coppia arbitrale quindi cartellino giallo per dal lago mazza ha saltato uno contro uno dal lago poi si è schiantato contro argentin ma si è già rialzato il numero 85 amaranto sempre 2 a 1 punteggio non si segna da qualche minuto pressano che difende in 5 e 1 con fadanelli in posizione di centroavanti adesso fantinato posizione di centrale con moretti che si è spostato a destra ma arriva il cambio tra i due moretti fantinato si sposta al pivoto uno contro uno con moser va via fantinato ma l'estremo difensore di pressano è attento e impedisce la marcatura riparte pressano subito dall'altra parte con dal lago murato da moretti dal lago però recupera palla fadanelli poi serve ancora a sontacchi che si va a guadagnare un 7 metri buona la difesa sul tiro in seconda fase però poi più lesti di tutti i giocatori trentini a recuperare i palle sarà lo stesso fadanelli che si incarica del tiro dei 7 metri una finta poi va a realizzare ancora fadanelli numero 15 del pressano che insacca la terza rete per gli altotesini tacca cassano adesso ancora fusina ad alta voce a dare indicazioni cambio di posto ancora tra moretti scusate tra fantinato e mazza continua a girare palla di cassano mazza cambia di posto con fantinato fantinato uno contro uno incrocia con mazza che poi aspetta saita che risale arriva adesso fantinato deve fermarsi sull'anticipo di moretti palla che torna nelle mani di mazza uno contro uno ancora non va via questa volta però 9 metri per il cassano intanto è entrato capitano marco l'amendola in posizione di pivot numero 23 per il cassano poi palla che arriva nelle mani di moretti mazza da fuori non c'è fallo per gli arbitri quindi palla che ritorna al pressano che corre in seconda fase con dal lago argentin dal lago uno contro uno su mazza va via bello l'uno contro uno e poi pegevole di palonetto palla di classe di alessandro dal lago pressano che sembra più in palla in questa prima fase del gioco invece per il cassano attacchi sterili non riusciamo neanche arrivare al tiro quindi gioco forza ci esponiamo alla contropiede pressano che difende in 5-1 quindi ogni palla recuperata viene facilmente trasformata in una seconda fase inoltre di questa difesa appunto 5-1 di pressano in queste uscite rende il gioco davvero difficile intanto Moretti al tiro però prima Murato e poi fermata la palla dall'estremo difessore del pressano riparte ancora in velocità argentin prova lui da fuori palla fuori ma c'è una spinta probabilmente di Fantinato sul terzino lanciato e quindi rimane in attacco pressano 4-1 possibilità di allungare ancora quindi pressano che organizza l'attacco sempre con Fadanelli numero 15 gira ancora palla son tacchi rimane in posizione centrale Fadanelli gioca 2-2 col pivot non c'è lo spazio incrocia con Dallago che va a largo da Argentin qualche difficoltà nel controllo però adesso Fadanelli 1-1 poi mazza lo ferma 9 metri per il pressano son tacchi battuto 9 metri Fadanelli Argentin Moser che risale arriva Fadanelli volo per Dallago tiro volante show qua il palazzacca grande gol del pressano Fadanelli per Dallago e time out Coles ecco stretto Coles a chiamare time out perché il pressano ha già allungato a più 4 inizio difficile per per Cassano anzi forse sarebbe più corretto dire inizio spinto del pressano che sicuramente ha interpretato al meglio questo inizio di partita e Coles è costretto a chiamare il suo time out quando siamo appena all'undicesimo minuto del primo tempo indubbiamente un inizio abbastanza convinto del pressano però dall'altra parte un Cassano abbastanza assente possiamo dire così? Sì sì soprattutto in attacco in difesa su difesa schierata comunque non ci stiamo comportando bene abbiamo subito le ripartenze prima e seconda fase ma sicuramente quello che fino adesso è mancato è l'attacco sì questa difesa 5-1 del pressano sta davvero mettendo in difficoltà i ragazzi in casa Camaranto con queste uscite ad anticipare i passaggi costringendo l'attacco così di Cassano continuamente a fermarsi adesso vediamo l'entrata in campo di Bassanese al posto di Branca e Bortoli al posto di Saitta rispettivamente su alla sinistra e alla destra intanto riprende il gioco 10 minuti e 30 passati 1-5 il punteggio adesso Mazza organizza l'attacco per Cassano Moretti risale Bassanese cambio di posto tra Moretti e Mazza ecco numero 85 1 contro 1 su Dallago poi c'è un fallo 9 metri battuto Marco Lamentola alla battuta adesso Mazza Moretti 1 contro 1 va via con l'aiuto di Lamentola scarica su Fantinato non c'è spazio però deve risalire Mazza ancora 1 contro 1 va via poi scarica su Fantinato 1 contro 1 con Fadanelli non c'è spazio tra le maglie di questo Pressano adesso ci prova Moretti ma non c'è spazio nelle maglie gialle 9 metri per il Cassano da ribattere però per distanza non mantenuta da Argentin Lamentola scusate Moretti non c'è lo spazio ancora non ci sono Varchi in questa difesa Moretti 1 contro 1 ancora scarica su Mazza palla che prova ad arrivare a Bassanese ma finisce fuori quindi torna nelle mani del Pressano che ha la possibilità di portarsi a più 5 ancora nessun effetto per quanto riguarda Manova Offensiva ora cambio di difesa siamo passati in 4-2 dentro Bassanese Bortoli per alzare quanto meno la difesa recuperare qualche pallone da poter sfruttare anche noi in contropiede viste le difficoltà nella quarta fase proviamo a fare qualche gol in prima e seconda fase per ovviare problemi che si sono palesati finora anticipo di Mazza che non riesce ad agguantare il pallone però ferma Dallago in modo tale da fermare tutto l'attacco di Pressano adesso però riparte con Dallago il taglio di Moser Fadanelli finta di andare largo poi rientra e grande palla per Sontachi grande parata di Monciardini adesso però subito Cassano dall'altra parte con Mazza che va via uno contro uno scarica su Fantinato prova da fuori ci mette la mano Loizos grande risposta prima Luca Monciardini poi dalla parte opposta Nicolaus Loizos portiere in greco del Pressano che dimostra tutta la sua classe c'è da dire Luca che la difesa di Pressano si sta comportando molto bene ma anche Loizos ci sta mettendo del suo non abbiamo ancora trovato le chiavi per scardinare cosa che invece riesce a fare Fadanelli supera l'uno contro uno Ivan Scisci poi sul raddoppio di Thomas Bortoli c'è il fallo da sette metri e quindi sì abbiamo un problemino tecnico che Cigi sta già risolvendo niente sei impallata un attimo la telecamera adesso sicuramente tornerà andiamo in ecola qua che è tornata eccola qua adesso cercheremo di ripressionare nel frattempo c'è stato il tiro dei sette metri realizzato dallo stesso Fadanelli quindi una sei punteggio ancora nulla di fatto per l'attacco Cassano riparte Argentin scarico per Adriano Di Maggio che si era nella posizione di pivot sul taglio sulla seconda fase quindi Cassano che allunga ulteriormente più sei sette uno Cassano che non riesce a sbloccarsi è tutto tornato Saita Moretti ancora Mazza scarico per la Mendola che non riesce a prendere palla per l'intervento falloso ma la recupera Bortoli Bortoli uno contro uno scarica per Moretti passaggio un po' indietro tenta di rubarla Fadanelli ma in maniera fallosa rimane in attacco Cassano ma non riusciamo a sfondare adesso Moretti subito dall'acqua interrompe l'azione di Cassano poi Moretti trova lo spazio ma nonostante avesse segnato c'è un nove metri per il Cassano riprende il gioco la Mendola fa correggio la posizione quindi su tutto di fare ancora la Mendola per Moretti Bortoli Mazza chiede la collaborazione di la Mendola taglio di Bassanese che però aveva tagliato in area poi comunque non arriva a ricevere il pallone quindi la sostanza è che recupera un palla ancora Pessano e si portino avanti sempre 7-1 al punteggio siamo a metà del primo tempo e Cassano continua a non segnare attacca a Bressano Fadanelli uno con uno con Cici poi l'anticipo di Mazza palla per Di Maggio che viene stoppato da Moncia prova Cassano in seconda fase vediamo se almeno un contropiede chiamava palla Cici era solo poi la palla arriva a Bassanese dall'ala Loizos ci mette ancora le manone ancora nulla di fatto Cassano ha segnato una rete nel primo minuto con Alessio Moretti poi più nulla Gode e Cassano non pervenuti e a nulla è servito il time out chiamato al decimo da Mr. Correz ora si prova a cambiare difesa diciamo quantomeno a non far segnare il Pessano se non in un paio di occasioni su rigore però finché rimaniamo a uno per quanto riguarda le reti segnate una buona difesa non serve poi a molto ora si libera Di Maggio dall'ala destra e va a segnare c'è anche un cartellino giallo per Alessio Moretti sedicesimo minuto gol per Adriano Di Maggio e cartellino giallo quello era per Mazza ah si ho visto un arbitro che parlava con Moretti però probabilmente Moretti stava si stava lamentando tra virgolette quindi però il cartellino giallo è a carico di Federico Mazza attacca Cassano con Bortoli difficoltà nel controllo del pallone però lo mantiene adesso Moretti risale Bassanese Moretti cerca Mazza che aveva tagliato in precedenza ma trattenuto da Moser e che viene munito anche per Nicola credo si esatto Nicola Moser numero 97 97 entrato nella fase difensiva attacca Cassano che arriva Bassanese all'ala stavolta realizza ma Loizos aveva ci aveva ancora messo la mano Loizos ma per fortuna il tiro ha potenza sufficiente a superare l'estremo difensore Trentino ed ora accetta il time out chiamato invece da Alessandro Fusina quindi probabilmente ha visto i suoi ragazzi un po' in difficoltà contro la difesa 4-2 4-2 messa in campo da 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 colis quindi vuole dare anche lui nuove indicazioni ai propri giocatori per risolvere queste difficoltà Cassano invece che è riuscito a sbloccarsi dopo 16 minuti quanta quanta fatica però per tanta 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 però marcare due gole in 18 minuti quindi questa la dice lunga sulle difficoltà offensive che sono un po' risapute della nostra mano offensiva però così accentuate come oggi non ne avevamo mai viste ogni tanto riusciamo a sopperire con qualche gol in contropiede questo è il nostro gioco tipico però insomma anche la quarta fase così male non l'hiamo mai vista e non mi sembra neanche un problema di concentrazione perché i ragazzi sono entrati in campo con lo spirito giusto un po' più difficoltà oggettivo un po' per la bravura della difesa e di Loizos del pressano quindi questo va dato merito anche agli ospiti però siamo un po' più noi che non riusciamo a creare fluidità a dare velocità ai movimenti soprattutto senza palla e questo non ci permette di arrivare al tiro in maniera pulita rendendo un pelino più semplice il lavoro della difesa avversaria potete riprendere il gioco palla nelle mani del pressano arriva a fischio riprende il gioco c'è stato un cambio si vediamo Dantino a centrale Pascal Dantino esatto con numero 10 Pascal Dantino a dettare il gioco Argentin spostato a pivot mentre Fadanelli a sinistra tanto c'è l'attacco di Fadanelli proprio appena citato che colpisce Mazza su un tentativo di prendere sfondamento del numero 85 ma non sono d'accordo agli arbitri quindi 9 metri per il pressano comunque nulla di grave riprende il suo posto in difesa Federico Mazza e riprende il gioco Dantino Moser Moser va a tagliare a doppio pivot attenzione Fadanelli da fuori tentazione di servire Di Maggio ma ha intuito tutto Bassanese spizzicando il pallone ma non riesce a trattenerlo quindi si rimane in attacco per il pressano tanto passivo uno contro uno siamo sotto chiamata di passivo poi palla che arriva ad Argentin che prova a girarsi subendo fallo rimane comunque attacco ancora a pressano seppur in situazione di passivo con probabilmente quattro passaggi rimanenti a disposizione Argentin riceve il 9 metri prova da fuori ma è attento Monciardini sulla traiettoria recupera il pallone parte in seconda fase Cassano con Moretti va da Bortoli uno contro uno prova a sfondare Thomas Bortoli ricordiamo saluto protagonista nel doppio incontro della nazionale di settimana scorsa prima con la Bielorussia e poi con la Norvegia nazionale giovane si è ben comportata è mancata la vittoria che sembrava fattibile con la Bielorussia peccato però insomma nazionale molto ringiovanito che ha ben figurato però torniamo in cronaca ora c'è un tiro dai 7 metri guadagnato da Federico Mazza e guadagna anche la prima esclusione temporanea perché il numero 15 Fadanelli che era di fronte a lui lo ferma in maniera fallosa deve accomodarsi in panchina per 120 secondi non è tiro dai 7 metri però è perché viene si ripende il gioco con 9 metri Moretti Mazza Moretti adesso Bortoli Mazza incrocia con il numero 8 Moretti fermato da Di Maggio in anticipo bravo il numero 11 del Pressano a leggere in anticipo la situazione adesso però riprende l'attacco Cassano con Bortoli arriva Moretti prova da lui da fuori e insacca nel 7 alle spalle di Loizos timidi tentativi di risveglio da parte dei nostri vediamo se l'inizio della rimonta speriamo per ora segnaliamo due gol consecutivi prima Bassanese ed ora Alessio Moretti per il 3-8 al ventesimo minuto Fusina che opta per l'extra player per riportare i 6 uomini in attacco toglie Loizos e al suo posto entra Sontacchi in posizione di pivot sullo sfondo vediamo Dimaggio che effetto ha il cambio ritornano in 5 dal lago su Bortoli palla larga però si deve fermare chiude bene la difesa di Cassano diciamo che la difesa di Cassano quantomeno sta salendo sta ecco però ora ne approfitta dal lago che è arrivato sui 9 metri un pelino di tardo l'uscita carica il mancino e va a realizzare Alessandro dal lago che non è nuovo ha questi tiri in doppio appoggio dai 9 metri diciamo specialità della casa adesso Bortoli che attacca scarica per Bassanese poi pallone va sul fondo non c'è stata deviazione quindi errore di passaggio per Thomas Bortoli la palla non arriva a Bassanese sarà creata una buona opportunità buona l'azione del Cassano è mancato l'ultimo passaggio questa volta peccato bisogna ricominciare dalla difesa sempre con Bortoli centramanti quindi siamo tornati in modalità più classica da 4 più 2 a 5 e 1 dal lago per Sontacchi nel fattempo è rientrato è tornato formazione iniziale il Cassano adesso tiro di Argentin sembrava essere sulla traiettoria Monciardini ma non riesce a trattenere il pallone Pressano che si porta più 7 3 a 10 il punteggio 22 minuti passati e Cassano che non riesce ancora a trovare un ritmo in questa partita adesso in attacco con Dorio che serve Bortoli a Capitana Mendola proprio da fuori Mazza palla che si perde oltre la traversa ma c'è stata una deviazione della difesa del Pressano gioco ripreso velocemente in penetrazione Alessio Moretti va a chiudere dal lago però commettendo inflazione di area chiaro il segno da parte della coppia arbitrale quindi tiro dai 7 metri che si incaricherà lo stesso Alessio Moretti Moretti contro una finta e seconda il tiro quarta rete per il Cassano e terza se non sbaglio di Alessio Moretti andiamo a controllare sì Alessio Moretti terza rete per lui ristabilita la parità numerica degli uomini in campo finora tutti realizzati i tiri dai 7 metri uno per il Cassano due per il Pressano attaccano proprio i ragazzi in maglia gialla con Argentin che serve Moser litiga un po' col pallone poi lo raccoglie quando lo stesso ha superato lì di fondo questa decisione dell'arbitro riparte Cassano con Moretti che scambia con Mazza Mazza uno contro uno arriva sui 6 metri e realizza di forza e credo ci sia anche un cartellino giallo a carico del numero 13 sono tacchi quindi gol di Federico Mazza e cartellino giallo per Sontacchi in questo caso Gabriele Gabriele Sontacchi sì esatto riprende il gioco sempre con Dantino Di Maggio scarica ancora per Dantino uno contro uno poi deve lasciare la palla da Argentino ma ha subito anche fallo quindi arriva il fisco dell'arbitro si riprende il gioco con Sontacchi Argentin Dantino largo Fadanelli prova si riprende tutti riesce in qualche modo a toccare la palla Monciardini e manda la sua difesa riparte Cassano ancora Mazza per Bortoli che però commette il sfondamento peccato sfondamento e due minuti per Mazza si che ha impedito la ripartenza veloce andando a disturbare appunto la rimessa in gioco non ha lasciato il pallone nella posizione l'ha scagliato via diciamo diciamo ha tentato con experience di rallentare il preso del gioco ma in maniera oltre i dettami del regolamento questo è un'altra sabito gli arbitri quindi due minuti per Federico Mazza e ora è Cassano ad avere un uomo in meno per 120 secondi attacca pressano intanto però Argentin bello lo schema con Fadanelli che però viene fermato per la mente ha provato a indirizzare la palla verso la porta ugualmente ma ovviamente senza forza e giustamente gli arbitri restituiscono il processo palla Argentin scarica per Moser che cerca e trova un secondo palo palo gol di Nicola Moser ha tentato di opporsi Luca Monciardini dopo avergli battezzato il primo palo lasciandogli il secondo poi ha tentato in estremis di andare a coprire anche il secondo ma preciso e potente il tiro di Nicola Moser che si insacca per il 5-11 anche Colez opta per sostituire Monciardini momentaneamente con Ivan Cici per portare 6 uomini in attacco Dorio Bortoli Moretti uno contro uno con Fadanelli va via ma sul tiro Loizos ancora una volta ma c'è 9 metri quindi palla che rimane nelle mani del Cassano Cici deve attaccare lui poi serve Bortoli adesso Saitta dall'angolo morto Loizos ancora il potere greco va a neutralizzare questo tentativo del Cassano ancora una volta Loizos nega la rete agli Amaranto adesso stesso schema di prima per il Pressano palla che però arriva a Moser che insacca ancora una volta 5-12 punteggio 26 minuti e mezzo passati parità numerica ristabilita intanto rientra Mazza si Cassano che ha sofferto un po' questa inferiore numerica buono il parziale per Pressano di 2-0 Pressano che si riallontana sono ancora 7 le reti di svantaggio sanno che deve ricostruire tutta la sua partita siamo quasi al termine del primo tempo Bortoli Moretti da fuori uno contro uno e bella l'azione di Alessio Moretti che si è un po' complicato la vita però poi alla fine quel che conta il risultato finale eh ma adesso per riaquantare il Pressano Cassano se la deve complicare per forza la vita sono 6 le reti di distanza a 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo adesso Dallago finita di passaggio poi va da Moser Mazza che chiude lo spazio palla che torna Dallago ancora Moser Buonciardini neutralizza giro di palla velocissimo ora prova a ripartire Cassano con Bortoli che si accentra però prova il muro di Argentin grande lettura dell'azione da parte di Argentin 2 contro 1 del Pressano e Dallago va in rete 2 contro 1 gestito molto bene da Dallago e Di Maggio e Pressano che si riporta a più 7 intanto viene fermato il gioco per asciugare il campo era rimasta una chiazza di sudore in precedenza adesso tutto è pronto riparte il gioco palla per Cassano intanto vediamo Mazza che scambio di opinioni con Dorio si prova a posizionarlo vediamo quale sarà lo schema offensivo scelto da Liamaranto risale Fantinato Mazza in penetrazione poi scarica per Moretti ma la palla si perde in falotterare attenzione a contropiede su Nicola Moser ci mette una pezza Monciardini poi può ripartire Cassano Fantinato cercava Saïta ma era e poi risolve tutto Moretti da fuori nonostante l'estremo tentativo Di Maggio di opporsi ma ovviamente rende qualche centimetro Adriano Di Maggio Alessio Moretti non può andare a murare il tiro e la palla si insacca 7.13 punteggio ultimo minuto entrati adesso attacca Pressano Argentin Fadanelli dal lago uno contro uno con Mazza poi arriva l'incrocio con Fadanelli e 7 metri guadagnato dal numero 15 del Pressano difesa in area di Bassanese questa è la si non ho capito difesa in area difesa in area su tentativo di prendere sfondamento di Bassanese e 7 metri per il Pressano e ammunizione per Bassanese per proteste no no l'ha munito anche prima come si è rialzato cioè l'ammunizione quindi non ho capito perché sarà difesa in area il motivo del giallo però Monciardini si oppone a Fadanelli il rigore Luca Monciardini poi Fantinato non riesce a guantare la palla che finisce in fallo laterale rimane nelle mani di Pressano poi Fadanelli prova un numero per servire Sontacchi ma nulla di fatto 7 a 13 termina il primo tempo un Pressano convinto si si è partito decisamente meglio il Cassano invece ha regalato i primi 10-12 minuti il distacco di Seretti e tutto lì parziale 7 a 1 al quarto d'ora quindi vantaggio conquistato tutto nel primo minuto di gioco poi il Cassano sta tentando di rimettersi in carreggiata ma non riesce a colmare il divario ha messo un freno al crollo della diga però è ancora tutto da costruire tutto da rimontare quindi ci aspettiamo un Cassano decisamente diverso e più convinto nel secondo tempo vediamo se Coles troverà il modo di ribaltare l'abbrivo del match noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fa poco ciao grazie 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 eccoci qua bentornati in secondo tempo Cassano Magnago Palamano Pessano valevole per l'undicesima giornata di ritorno della serie a beretta maschile buon primo tempo del Pessano mentre per quanto riguarda il Cassano una lunga fase iniziale in cui non è riuscito a trovare il bando della matassa in posizione offensiva benino la difesa ma quel che è mancato l'attacco con due gol nel primo quarto d'ora anzi uno nel primo quarto d'ora seconda rete solo al diciassettesimo minuto fatto sta che nel frattempo il Pessano ha preso un vantaggio di 6-7 reti che seppure il Cassano abbia effettuato una buona seconda parte in primo tempo non è riuscito a scalfire quindi siamo ancora con Pessano più 6 all'intervallo riprende il gioco Federico Mazza viene murato attacca Cassano intanto che rientra con la squadra i primi sette Mazza uno contro uno per Fantinato Moretti prova a scaricare il pivot riesce a liberarsi la mendola e va a realizzare molto bravo buona la posizione di Marco la mendola che aguanta il pallone e realizza l'ottava rete per il Cassano che è subito dall'altra parte però ferma tutto Federico Mazza quindi squadra in maglia gialla che ripartirà con un attacco organizzato sempre dal numero 15 Nicola Fadanelli Fadanelli da Lago e Argentini tre terzini Nicola Mosere Adriano Di Maggio sulle ali Gabriele Sontacchi pivot e Loizos in porta questo è il sette per Coach Fusina proprio da fuori Argentin realizza numero 55 del Pessano indisturbato dai 9 metri realizza adesso Cassano dall'altra parte cercato Scici ma Loizos dice di no e fa ripartire Pessano contropiede seconda fase poi per fortuna i nostri ragazzi quantomeno riescono a chiudere in difesa però non ancora perfettamente schierati Fadanelli con anche un aiuto a piccola deviazione va a realizzare una nuova rete per il nuovo massimo vantaggio più sette tiro di Nicola Fadanelli che viene sporcato da Fantinato e inganna così Monciardini e si insacca per la quindicesima rete del Pessano adesso attacco Cassano Saitta e Fantinato si scambiano di posto ora rientra Fantinato Moretti doppio più per il Fantinato mazza cerca la mendola questa volta non c'è fallo non arriva la palla sembrava lamentare una trattenuta ma gli abiti fanno segno si può giocare siamo già da parte opposta Fadanelli dal lago Argentin indisturbato non c'è contrasto difensivo completamente piatta la difesa del Cassano Moser Argentin arriva sugli otto metri dall'altra parte Moretti sfrutta anche lui una deviazione del muro che inganna Loizos e si insacca nell'angolino basso 1-2 prova a rispondere però se quantomeno nel primo tempo la difesa aveva sopperito la mancanza dell'attacco in questo avvio di ripresa ci sembra che neanche per quanto riguarda la parte difensiva i ragazzi di Corez riescono a sovvertire le sorti del match Argentin dal lago Argentin prova ancora da fuori i ragazzi già braccio caldo Andrea Argentin prova a intervenire questa volta Shishi ma è una fazione di secondo ritardo quando va a contrastare il terzino questo ha già scagliato il pallone verso Monciardini senza che l'estremo difensore riesca a intervenire in maniera efficace attacca Cassano con Moretti Fantinato Mazza accelera il ritmo Moretti va tra primo e secondo sette metri guadagnato difesa in area di Adriano Di Maggio credo si viene fischiata la il fatto di essere entrato in area sarà lo stesso Alessio Moretti a incaricarsi del tiro dei sette metri Moretti contro Loizos prima finta secondo tiro realizzato decima rete per il Cassano sempre meno sette seconda rete per il Cassano dai dai sette metri sempre con Alessio Moretti tanto Alessandro Fusina decide di dare qualche attimo di riposo a Nicola Fadanelli al suo posto entra Pascal Dantino nel ruolo di centrale eccolo scambiare palla con Sontacchi poi vado a Dallago Argentin ancora Dallago arriva Dantino scarica con Alessandro Dallago poi va da fuori poi tiro viene deviato dallo stesso Moretti credo si di Dallago non c'è il tocco di Monciardini quindi palla ancora per Pressano risale Di Maggio prova a sorprendere Branca Adriano Di Maggio ma è sul pezzo questa volta Filippo anche se ovviamente per fermare la forte Ala Trentina deve commettere il fallo si riparte con un 9 metri si ripete la sfida poi Dallago per Argentin questa volta il passaggio non è preciso quindi deve fermarsi e ripartire Terzino a sinistro e viene fermato da Fantinato ancora 9 metri però rimane in attacco la squadra di Fusina Dallago scarico per Sontacchi ma interviene Mazza spizzicare il pallone poi contropiede Loizos ancora ancora Loizos ipnotizza Banca occasione sprecata Dallago legge bene il gioco e lancia Moser risponde Monciardini meno male Cassano che ha sempre sette reti da recuperare Mazza vede il taglio di Fantinato poi il numero 5 non agguanta il pallone però sui 6 metri da solo quindi Pressano che può ancora ripartire e ha in mano adesso la palla del Piùotto che ha già sprecato due volte vediamo se Piùotto toccato già in precedenza sì poi Cassano ha accorciato di una rete di stacco ma controllo del match che rimane ancora completamente nelle mani del Pressano Dantino per Argentin si libera non trova la porta non c'è fallo si lamenta un po' la panchina gialla giallonera attacca Cassano adesso con Fantinato che scarica per Saitta ma non agguanta il pallone quindi sarà Loizos a rimettere in gioco la sfera intanto Pressano Dantino non ha nessuna fretta sì esatto gioca ritmi blandi ovviamente dicevamo all'inizio situazione di classifica tranquilla per entrambe a quattro giornate dal termine non hanno più nulla da chiedere a questo campionato c'erano le premesse per giocare a mente fresca senza grossi problemi senza pressioni ma solo intento di divertirsi il Pressano è riuscito a farlo il Cassano decisamente no panchina di Cassano che lamenta un passivo non sono dello stesso parlo degli altri Dantino prova a caricare il destro poi il suo tiro viene deviato da D'Orio proprio Dantino ha cercato un tiro in doppio appoggio tra le braccia di D'Orio ma Mattino esceva a deviarla riprende il gioco quasi adesso il passivo palla ancora sporcata e poi gestita da Monciardini possibilità di contropiede e questa volta Saitta va a realizzare trentasettesimo minuto gol di Gabriele Saitta undici a diciassette Cassano in attacco intanto continuano le lamentele sulla panchina del Cassano adesso sempre Dantino organizzare l'attacco dei gialloneri con il rientro di Fadanelli al posto di Dallago taglia doppio pivot Moser esce Sontac in appoggio poi Dantino prova da fuori Murato da D'Orio ancora D'Orio Murato palla recuperata da Argentin Di Maggio pavolo uno contro uno Fadanelli poi c'è temo auto no commissario federale che richiama l'attenzione sul fatto che c'erano delle proteste reiterate da parte di Colez probabilmente chiamava passivo a gran voce questo ha disturbato un po' il commissario che richiamata l'attenzione degli arbitri fa redarguire anzi fa ammonire la panchina Cassanese riprende il gioco rimessa in gioco di Moser Argentin due contro due con Sontac poi scarica per Dantino molto bravo Mazza a leggere e fermare il centrale di Pressano in anticipo ancora Dantino cerca un contro uno palla poi palla che carambola e sulla parata di Monciardini viene segnalato il fallo dello stesso Fantinato su Sontac ed ora sarà Adriano Di Maggio a presentarsi sulla linea dei sette metri ti colleggo Luca è Pascal Dantino che va anche a realizzare il tiro dei sette metri quando siamo a trentanove un minuto e ci portiamo sull'undice diciotto sempre lì in distacco invariato ricordiamo questo back del primo quarto d'ora poi il Cassano ha tentato qualcosina ma in maniera non continuativa spazi interessanti ma seguiti da errori a palle perse quindi non si è riuscito a ridurre il gap che oscilla tra il meno otto e il meno sei Takakassano uno contro uno Mazza va via poi arriva l'aiuto in anticipo di Fadanelli e due minuti per Federico Mazza per proteste si un po' nervoso Federico era già un po' che si lamentava sulle decisioni degli albi poi in questo caso chiedeva un tiro dei sette metri che non gli è stato concesso e sull'ennesima protesta è stato mandato a calmarsi si spera in panchina per un paio di minuti riprende gioco intanto comunque il possesso palla era del Cassano perché comunque era stato fischiato un faro da nove metri Caliaz è subito pronto a sostituire Monciardini e far entrare il Bassanese il ruolo di centrale si deve comunque dare una presenza in campo di tre terzini per cercare di segnare nonostante un'epetà numerica Cassano ha necessità di mandare la palla in fondo a sacco di Loizos ci prova Moretti con un tiro incrociato non c'è fallo riprende con tutta il cam l'estremo difensore greco tiro molto defilato quello di Alessio quindi alta difficoltà e attenzione a Mazza perché comunque è già il secondo due minuti quindi al prossimo doveva abbandonare il campo anzitempo attacca Pressano con sempre Dantino a organizzare Argentin Fadanelli cerca Moser non c'è spazio però ancora Argentin torna fuori Dantino Argentin prova da fuori è il copione è sempre lo stesso se non si lascia tirare terzino sugli otto metri senza nessun disturbo poi tenti in estremi di andare a muro ma ovviamente il danno è già fatto tanto faccio notare Luca l'entrata di Gazzini Alberto numero 19 del Pressano al posto di Sontacchi sì ovviamente due società che storicamente hanno dei gran bivai quindi ovviamente sul più otto mister Fusina si può anche permettere di dare spazio e minuti ai giocatori più giovani che ha a disposizione quindi vediamo altro giovane interessante della società trentina intanto c'è il timeout chiamato da Correz che tenta in estremis di inventarsi qualcosa per invertire i soldi del match che vede sempre la sua squadra sotto di otto reti 11 a 19 il punteggio 11 minuti abbondanti passati del secondo tempo non è riuscito nell'intervallo a inventarsi qualcosa e vediamo cosa può avere adesso ha già tentato la carta della difesa 4-2 nelle fasi centrali del primo tempo qualcosina era migliorato però seppur la difesa qualche palla la recupera l'attacco è quello che non è riuscito a convertirle in marcature quindi rimaniamo sempre a 11 reti segnate in due terzi di gara e quindi non fanno pesagire che nel restante 20 minuti se ne possono fare a sufficienza per recuperare le otto reti di svantaggio 11-19 sta per riprendere il gioco finito il time out tutto pronto ecco il fischio riprende il gioco Cassano sempre Bassanese in campo con Mocciardini momentaneamente sostituito risale Fantinato incrocia con Bassanese che scambia con Moretti che va da saitta dall'ala al volo per Moretti rete di pregevole fattura del Cassano che adesso deve rientrare a tutta velocità cambio irregolare credo o è entrato prima della fine del termine dei due minuti non abbiamo capito esattamente l'errore commesso da Massa molto probabilmente è rientrato prima che fossero scaduti i suoi due minuti e quindi giustamente subisce una nuova sanzione che ahimè per lui trattasi della terza e quindi definitivo cartellino rosso a suo carico intanto Cassano che avrà altri 120 secondi in inferiorità numerica e Pressano che è pronto a rimettere in gioco il pallone arriva al fischio dell'arbitro Fadanelli Dantino Argentin Dantino esce Gazzini finta di incrocio proprio con lui poi palla che arriva da Fadanelli solo sui 6 metri realizza la ventesima rete del Pressano adesso ancora extra player per Cassano e poi abbiamo un esatto entra Bassanese perché c'era un improbabile Mattia Dorio nel ruolo di centrale attacca Cassano con Bassanese a organizzare proviamo a diventarci qualcosa ovviamente porta sguarnita bisogna farlo con tutte le precauzioni del caso però non c'è neanche troppo tempo da perdere 18 minuti al termine e sempre 8 minuti da recuperare proprio palla servita Dorio e proprio lui a realizzare questa rete poi tentativo di rimessa veloce contropiede per il Pressano che invece perde palla possibilità per Cassano di piazzare un 1-2 vediamo se è l'inizio di un qualcosa noi ci agganciamo a ogni felibile speranza ormai dobbiamo provare tutto per tutto e provare a sovvertire le sorti in questo match ricordiamo assolutamente in influenzio per la classifica però quantomeno non bisogna cercare di salvare l'onore fino a fine del campionato prendiamo conto che non è facile trovare motivazioni però insomma l'orgoglio dovrebbe essere motivazione sufficiente va bene perdere ma in questo modo non è il modo migliore per congedarsi da un campionato seppur difficile con altre speranze con altre ambizioni però bisogna giocare fino al termine dopo tre queste ne mancano ancora quattro partite e bisogna giocarle al meglio cercando di fare il risultato a prescindere dalla utilità dei due punti in classifica tanto palità numerica restabilita ma c'è anche il passivo Moretti uno contro uno con Gazzini passa Alessio risolve tutto Moretti quattordicesimo Moretti per il Cassano sempre venti Pressano adesso ripetiamo Pressano che non ha fretta di spingere deve tenere il controllo del match intanto rientra Sontacchi dopo un breve periodo di pausa Argentin Dantino Fadanelli giro palla per il Pressano provano a scardinare a difesa il Cassano che si comporta bene in questo frangente poi sorprende tutti Fadanelli con un tiro in doppio appoggio ma praticamente raso terra da terra esatto Munciardini non lo vede partire nulla può ancora Moretti cerca Dorio poi non aggancia il pallone ma nove metri nove metri segnalato dagli arbitri battuti adesso intanto c'è un cambio tra le file del Cassano entra Bortoli al posto di Saitta alla destra ancora basta ne sorganizzare chiama lo schema cambiando di posto Fantinato e Bortoli arriva anche Moretti al centro risale Fantinato finta di tiro incrocia con Bassanese Moretti interviene ancora Bassanese poteva scaricare a bordo però provato l'uno contro uno fermato si ripende con nove metri batti d'orio Bassanese Moretti siamo in situazione di doppio pivot con Fantinato Moretti si aggrappa Sontacchi e viene sanzionato due minuti per Gabriele Sontacchi e Dario Fabian richiama l'attenzione perché c'è stata anche protesta eccessiva di Alessandro Fusina che quindi viene sanzionato anche lui dalla coppia arbitrale con un cartellino giallo entrambe le panchine ammonite 14-21 punteggio sempre 7 riette recuperare un quarto d'ora al termine metà del secondo tempo prova il Cassano a sovvertire le sorti del match vediamo se sapranno sfruttare al meglio questa subita numerica Moretti Fantinato Bortoli la palla in qualche modo arriva Thomas in equilibrio precario era un po' sbilanciato visto l'uscita di Loizos prova con un semipalonetto supera portiere avversario ma la palla si appoggia alla traversa e torna nel possesso dei giocatori del Pessano nulla di fatto questo primo attacco in subita numerica ora Pessano opta anch'esso per l'extra player fuori Loizos dentro dal lago come sesto uomo di movimento Argentin dal lago Fadanelli risale Dantino dal lago 1 contro 1 finta risale di maggio lunga manovra del Pessano però la palla corre molto veloce poi tiro murato da Fantinato può partire in contropiede Branca e poi non trova la porta c'è stato un intervento credo anche di Loizos sono visto bene però sta di fatto che la palla finisce sull'esterno della rete Cassano che non ha sfruttato bravo in due occasioni in subita numerica adesso ancora 40 secondi di attacco senza portiere per Pessano però Cassano ha avuto due occasioni non sfruttate palla per Pessano adesso sempre Dantino in cabina di regia esce Argentin in appoggio prova lui proprio serve poi Dantino adesso dal lago prova da fuori chiude il tiro sul primo palo e insacca alle spalle di Monciardini 22 per il Pessano 17-20 passati Fotoce per il Cassano sempre 8 retti da recuperare ma non ci schiodiamo da questa situazione dal quindiceso minuto del primo tempo in avanti sempre oscillazioni massime tra meno 6 meno 8 però la partita non ha cambiato il suo copione ora prova la carta Cisci terzino destro Massanese Moretti Massanese ancora Cisci doppio pivot queste uscite del Pressano a disturbare palla che torna da Bassanese sale Bortoli cerca l'uno contro uno prende un colpo al viso due minuti per Argentin che manifesta innocenza ma il colpo al volto c'è stato chiaramente fortuito non voluto però è andato in maniera scomposta a difendere con le braccia alzate prima ancora che Bortoli tentasse il tiro quindi a quel punto le mani hanno colpito al volto la giovane la mancina del Cassano costringendo l'arbitro a chiamare due minuti a carico di Argentin fischio dell'arbitro riprende il gioco diciotteso minuto 12 al termine vediamo se questa volta riesce a sfruttarli meglio ricordiamo due minuti precedenti parziale di 0 a 0 quindi nulla di fatto Moretti finta di tiro scarica per Bassanese prova a infilarsi di forza Stefano Bassanese c'è il barco si infila non se lo fa dire due volte quindicesima rete per il Cassano sempre meno 7 però sempre meno 7 diciamo non c'è mai stata continuità abbiamo detto tante volte qualche buona azione ma poi non non tante consecutive alternate azioni inconcludenti che hanno permesso al Pressano di gestire al meglio il vantaggio guadagnato nelle prime fasi del match Dallago Fadanelli Dantino risale ancora Dallago tenta di fare palla Bassanese rimane che passaggio di Dallago grande palla di Dallago per Moser ho anche qualche dubbio che non l'abbia visto Moser l'abbia buttata là esatto ha cercato un passaggio lì ci doveva essere il mio compagno proviamoci anche perché aveva esaurito i passi non aveva coordinazione per tirare perché era tutto girato verso l'esterno quindi ha provato e comunque questo il dire la fortuna aiuta gli audaci perché il passaggio è andato a buon fine arrivando nei mani di Nicola Moser che poi ha trasformato per i 18 a 23 però risponde a parte opposta ancora Alessio Moretti sembra l'ultimo a volersi arrendere anche se il tempo è sempre meno quello che divide le squadre dalla triplice serena finale 10 minuti e spiccioli e sempre 7 le reti di vantaggio per la squadra che attacca vale a dire Pessano difesa il Castano che si rialza ritorniamo in 4 più 2 un 4-2 mobile insomma non può più a uomo però molto profonda dal lago difesa apertissima Pascal Dantino con Dantino con anche Ivan Illic che è subentrato tiro di Moretti intanto che però c'è un fallo quindi rimane in attacco Cassano siamo entrati negli ultimi 10 minuti diciamo Cassano che ha provato anche a buttare nella mischia il portierone Ivan Illic buona la prestazione di Luca Monciardini nel primo tempo quando la difesa un po' aiutata secondo tempo non tante parate ma decisamente anche il livello della difesa è calato quindi non è stato minimamente aiutato quindi assolutamente nessuna colpa per quanto riguarda Luca Monciardini ora proviamo a spezzare le sorti del match con Ivan Illic però finché perdiamo palli in attacco c'è poco da fare tentativo di contropiede poi va a disturbare Moretti la palla si perde sul fondo ma secondo l'arbitro l'ultimo tocco è di Dantino quindi riparte Cassano con Moretti Bassanese palla per Branca non c'è spazio per arrivare al tiro quindi deve fermarsi ricostruire Bassanese torna in mezzo e va a organizzare il gioco con Scisci e Moretti terzini in questa fase tagga Cassano con Bassanese Moretti Bassanese Scisci uno contro uno va via però non inquadra la porta lamenta lamenta un fallo la panchina del Cassano ma non sono dello stesso parere gli arbitri quindi la panchina del Cassano chiamava un fallo la panchina del Bassano chiamava sfondamento gli arbitri salomoricamente non fischiano nulla la palla è riuscita sul fondo quindi rimessa del portiere nel dubbio lasciamo andare che tanto va bene torniamo in cronaca Cassano che difende in 5-1 Bortoli avanzato Bassano che attacca senza fretta con Del Lago c'è una sospensione di tempo il team out chiamato da Fusina ne aveva ancora due a disposizione si gioca il primo poi ricordiamo negli ultimi 5 minuti ancora uno per parte c'è poco da raccontare Davide ormai il copione è quello vantaggio acquistato da Bassano nei primi minuti poi Cassano ha tentato a spazi ma senza dare continuità alla rimonta quindi sempre lì 6-7-8 reti di svantaggio ormai lo stiamo raccontando da più di mezz'ora dei restanti minuti giocati dopo quella primo stint sciagurato primo quarto d'ora con una sola rete messa a segno dagli Amaranto indubbiamente quei primi 17 minuti con un parziale di 7-1 indubbiamente hanno segnato la partita che poi non non è più ritornata sui binari che speravamo si poi il Pessano ha gestito agevolmente tentativi di monta senza neanche spingere troppo sul solo acceleratore ha tenuto a bada agevolmente gli attacchi del Cassano e siamo sempre qui ripartiamo 8 minuti al termine con Pessano che attacca sempre con Argentin Dantino e Dallago e ci sono Tacchi Dallago può intercettare Scisci però libera tutto il lato sinistro e Fadanelli spostato per occasione proprio in quella posizione va a realizzare più 9 Pressano massimo vantaggio attacca Cassano Bortoli serve Dorio bravo Dorio a girarsi e a realizzare 17 per il Cassano però sono sempre 8 le reti purtroppo si si non si schioda il punteggio il punteggio che rimane lì Cassano che si sta trascinando mestamente all'ennesima sconfitta interna e sarebbe la seconda consecutiva qua palazzetto quarta consecutiva contando anche i trasferti quindi Cassano che non si muove da un po' contando anche la sosta nazionale però non ci stanno regalando gioie da un mese e mezzo tanto ci prova Dantino ma non c'è spazio con la difesa di Bortoli e poi due minuti a Moretti penso per protesta si diciamo protesta di frustrazione per Alessio Moretti diciamo era praticamente l'ultimo che voleva arrendersi ma anche lui ha fatto dalla negatività che li gira attorno riprende il gioco ancora Pressano in attacco Argentin Dantino dal lago Dantino arriva Argentin da fuori murato da Bortoli può esserci contropiede per Branca che non non agguanta pallone però e termina sul fondo deve allungare un po' la traiettoria del lancio Ilic perché stava tornando dal lago poi nel momento in cui la palla scende tra le mani visuale un po' coperta però Filippo probabilmente poteva far di meglio eravamo al limite dei sei metri quindi doveva cercare una coordinazione diversa però sta di fatto che la palla viene istituita al Pressano che con scarico a Dantino nella posizione di pivot va a realizzare massimo vantaggio più dieci no più nove più nove ah si era già segnato sul tabellone il compito che ancora non venisse segnato adesso Corez che comunque opta per l'extra player con l'entrata di Marco Lomendola a pivot giro palla Cassano un cambio di posto tra Bassanese e Dorio esce la Mendola in appoggio palla per Cici arriva Bassanese uno contro uno scarica Cici tira da fuori poi palla sul palo Dallago a porta vuota non inquadra la porta clamoroso errore di Dallago con troppa sufficienza provato una palla leggera senza impegnarla troppo ma non l'ha inquadrata gli ultimi minuti segnaliamo l'ingresso in campo di Simone Facchinelli per quanto riguarda l'estremo difensore del Cassano quindi scusate il Pressano da riposo all'Oizos che ben si è comportato quindi qualche minuto anche per Simone Facchinelli numero uno estremo difensore del Pressano in questi ultimi cinque minuti di gara Bassanese intanto prova a scaricare alla Mendola palla viene intercettata con il piede dall'ago quindi si riprende con nove metri Dorio doppio pivot per il Cassano è rientrato in frattempo Moretti che ha scontato la penalità precedente Cisci Bassanese palla per Filippo Banca che bravo Facchinelli giustamente gloria anche per Simone Facchinelli che effettua questa bella parata si era ben mosso attacco del Cassano aperto completamente a difesa tirato con tutto lo spazio possibile immaginabile ma non ha fatto i conti con l'estremo difensore Filippo Banca quindi non riesce a concretizzare questa buona azione del Cassano 4 minuti al termine 17-26 Cassano che segna meno di 20 reti partite in casa non me lo ricordo da qualche anno esatto seppur ci sono state le partite perse giocate anche male ma 17 reti solo trasformate sono poche non me le ricordo da un bel pezzo sinceramente intanto c'è ancora un altro time out chiamato da Alessandro Fusina ovviamente vorrà dare spazio a qualche altro giovane sicuramente visto il punteggio glielo consente ovviamente per fare più di un cambio contemporaneamente preferisce farlo a a palla ferma però Luca intanto che lo vediamo non inquadrato però possiamo dire che sta preparando uno schema sì esatto o ci sarà qualche azione spettacolare magari qualche volante qualcosa del genere vediamo cosa stanno preparando sto preparando uno schema Alessandro Fusina quindi non è per dare no perché rientrano gli stessi che erano no c'è un paio di cambi sì esatto dentro come dicevamo già prima con il numero 19 in pivot Alberto Gazzini quindi riposo per numero 5 con il numero 5 abbiamo chiste Marco e con il numero 7 l'altro sono tacchi Davide esatto sono tacchi Davide quindi probabilmente stava disegnando le posizioni non uno schema magari particolare tanto di maggio per tantino prova parla per Gazzini ma nulla di fatto non riesce a girarsi rimassa in gioco per Argentin prova da fuori palla che si perde oltre la traversa riparte Cassano contropiede con Moretti Bassanese riesce a creare società numerica palla che arriva a Bortoli che segna dall'ala buona questa volta l'azione del Cassano buono lo scalare verso destra con Moretti che ha tratto due difensori poi superiorità numerica sfruttata fino all'ala destra con gol di Thomas Bortoli si riporta Bressani in attacco Dantino Argentin sono tacchi Argentin Dantino taglio doppio pivot poi ci ripensa ancora Argentin prova non contro uno ma Illich attento contropiede può ripartire Cassano Moretti Scisci ancora Moretti deve fermarsi Bassanese Scisci finita il passaggio a Bortoli poi invece va in uno contro uno e realizza bravo Scisci questa volta non andare fino all'ala ma solo fintare il passaggio spostare la difesa e ritrovarsi sui sei metri buona azione in seconda fase però purtroppo avviene al cinquantasettesimo quando i giochi sono fatti 19-26 ultimi due minuti attacca Bressano con Dimaggio Argentin Dantino cerca Cazzini ma ancora le maglie Amaranto si chiudono poi c'è possibilità di contropiede con Bassanese che realizza la ventesima rete del Cassano anche se ormai i giochi sono fatti un minuto e mezzo al termine si abbiamo potuto vedere aspettare il ventottesimo per vedere un filotto con tre gol di fio del Cassano passare 3-0 però del tutto tardivo Dantino completamente solo Gazzini bravo Dantino a servirlo e Gazzini non si fa ripetere due volte di insaccare il gol anche perché era completamente solo sulla linea dei sei metri difesa completamente sbilanciata Bortoli Cisci fa correre la palla su Bassanese scarica per Blanca che però fa già fatica a tenere la palla in campo poi Moretti si libera ancora per Blanca viene fischiato un fallo forse con troppa velocità nel frattempo Moretti aveva scaricato la palla a Blanca che l'ha segnato però riprende con 9 metri Cisci perde pallone non è fallo riparte Argentin di maggio si accentra palo secco palla che finisce in fallo laterale può rimettere in gioco Cisci con Bassanese subisce fallo siamo negli ultimi 20 secondi anzi 10 secondi di gioco Cassano 20 Pressano 27 aspettiamo solo questa azione vedere se ci sarà la ventunesima rete per Mattia Dorio schiaccia troppo il tiro la palla viene anche deviata da Facchinelli si perde oltre il fondo quindi punteggio finale 20 a 27 brutto Cassano diciamo c'è stato quell'avvio assolutamente negativo poi non è riuscito ad invertire le sorti del match Pressano ha fatto suo senza spingere eccessivamente troppo ha fatto sicuramente un buon avvio di partita poi ha gestito i timidi tentativi di rimonta del Cassano con estrema tranquillità portando a casa un importante successo per il Cassano invece c'è ancora buio fondo non c'è luce in fondo al tunnel quarta sconfitta di fila e mandiamo in archivio questa partita con il risultato di 20 a 27 ringrazio Davide Cencert il camera Davide Bianchi qua a fianco a me e noi ci salutiamo con il consueto buona palamano a tutti ciao ciao